guardali guardali gli esperti guardali bravo bravo luca piedi sulle pedane bubba paolone l'ignoranza fatta motociclista è colpa mia allora devi bobbarla se la vai a tagliare non ha senso no sfrutta la velocità bobbala e vieni su ma adesso se fa adesso adesso è fatta se 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 abu dai è un grande vieni dai dai andiamo a casa dai di qua di qua andiamo di qua ha capito dai tranquillo adesso te riposi un attimo bevi un sorso adesso è tutta più facile non ci sono tranquillo vabbè andiamo vieni su non rompere i coglioni bravo dai su forza dai dai su devi un po allenare come me vabbè dai non è un problema scusate quel la ce l'ho fatta tranquillo l'altra volta non rompa su sti paragoni perchè molti potete con l'intatto insomma devi abituare no ma a parte la moto ma il terreno è più viscido chiaro è chiaro che è la gomma il cavalletto la mus e il faro che funziona sti cazzo di cavalletti sti cappati è un troiaio veramente